Purtroppo crescono i contagi, per fortuna torna a crescere anche la capacità di monitoraggio dei casi di Covid-19 sul territorio. Rientra in questa logica la reattivazione del Drive Point di Pesaro a partire da domani, giovedì 2 dicembre. Una struttura, quella del monitoraggio tamponi direttamente dalla propria automobile, che era stata attiva fino ad agosto in strada dei Cacciatori a Villa Fastigi e che poi è stata chiusa in linea all'onda bassa della pandemia da fine estate. Ora il rialzo dei contagi porta a riaprire questa struttura che cambia sede. Sarà qui dove ci troviamo, ovvero in via Lombardia, in questa zona adiacente alla nuova sede della protezione civile, recentemente inaugurata lo scorso 20 novembre e a fianco al mercato ortofrutticolo. Il Drive Tamponi abbiamo deciso di farlo qua, ci sembrava il posto giusto, anche perché la casa dei volontari, i servizi ci sono, la tensostruttura in grado di coprire e garantire dal maltempo i sanitari, ci sembra quella giusta. L'Asur ha visionato la location e l'ha subito giudicata favorevolmente, sarà un punto tamponi aperto nel pomeriggio, perché qua al mattino ci sono attività commerciali con le quali non vogliamo interferire. E dunque qui si sta allestendo la struttura per questo monitoraggio sanitario, vedete già al mio fianco il container dedicato a questi test. Qui si arriva in macchina, ci si può sottoporre allo screening gratuito, al percorso guariti, ma possono recarsi in questa struttura, e questa è una novità, anche gli studenti, quelli che sono venuti a contatto con un caso di positività in classe, con un alunno, con un docente e sono tenuti a sottoporsi al test antigenico. Il tutto sempre arrivando direttamente qui con la propria auto.